di esseri, esseri perfetti come le idee, esseri metafisici ovviamente, esseri imperfetti come le cose reali. Esistendo un dualismo ontologico necessariamente esiste anche un dualismo neossiologico, quindi due gradi fondamentali della conoscenza, la scienza delle cose e l'episteme, la scienza che poi per Platone corrisponde alla filosofia, che invece fornisce le verità perfette, le verità assolute e dà una conoscenza stabile, duratura, oggettiva. Questo nel Fedro e anche nella Repubblica riprende la credenza orfico-pitagorica della metempsicosi, cioè della trasmigrazione delle animi, e che l'uomo appunto ricorda solo grazie al fatto che ha già conoscenza. Quindi è sbagliato dire che Platone crede nell'innatismo perché le conoscenze non sono visibili senza l'esperienza sensibile, ma allo stesso tempo è sbagliato dire che Platone creda nell'empirismo puro, in quanto la esperienza non parte mai dall'esperienza sensibile. Quindi non possiamo parlare di una deduzione o di un'induzione pura, ma come ho già detto, di una sorta di prezionamento estrapolata e tirata fuori attraverso il metodo maieutico, attraverso il metodo socratico, quindi attraverso il dialogo. In modo ottimista di poter conoscere tutto, o perlomeno non a tutti è accessibile la conoscenza intellegibile, ma solo a pochi. Allo stesso tempo però non è un pessimista, come lo sono i cinici, ovvero non crede che non sia possibile alcun genere di conoscenza. Possiamo conoscere pienamente solo alcune categorie di esseri. Le idee in sé. La conoscenza come una retta divisa in due segmenti. Il primo segmento rappresenta la doxa, che al suo interno è divisa in altri due segmenti. L'immaginazione e il casia. I superficiali che noi abbiamo delle cose, ma che sono anche slegate dalle cose. Cioè sono nostre fantasie. Le immagini che noi diamo alle cose, come possono essere le ombre, i fantasmi, gli UFO che si vedono negli occhi. L'immaginazione della doxa è costituita dalla credenza pistis, che è la percezione chiara degli oggetti, che però sono copie delle idee, come per esempio le statuette nel mito della caverna. Mentre l'episteme, cioè la scienza, si divide al suo interno in dianoia, o conoscenza dianoetica, che è la conoscenza delle idee matematiche, e in noesis, cioè conoscenza noetica, o noetica, che è l'intellezione filosofica, o più brevemente la dialettica, cioè la filosofia, la conoscenza delle idee valori. La teoria della conoscenza viene esemplificata nel mito della caverna, che troviamo nel settimo libro della Repubblica. È sempre Socrate che parla a Glaucone e immagina che all'interno di una caverna sotterranea siano presenti sin dalla nascita alcuni schiavi legati con delle catene al collo, alle mani e ai piedi, in modo tale che non possano girarsi per vedere cosa c'è dietro alle loro spalle. Rappresentano l'umanità, cioè il genere umano, che è legato al mondo terreno. Tutta la grotta rappresenta la doxa, ovvero il mondo terreno, il mondo materiale, mentre le catene simboleggiano l'ignoranza, ovvero ciò che inchioda l'uomo alla vita corporea. Questi uomini incatenati hanno alle loro spalle un muricciolo, e dietro questo muricciolo una strada percorsa da alcuni portatori distanti, del muro, e solo le statue esporte, di vari materiali, legno, marmo, e rappresentano tutti gli oggetti presenti, natura, uomini, animali, in dimensione... Dietro, appunto, dietro questo muro, in lontananza, però sempre all'interno della grotta, è presente anche un fuoco lontano acceso. Questo fuoco rappresenta l'archè, cioè i principi sbagliati dei primi fisici, o i concetti fragili dati da un'inzogna. Il muricciolo rappresenta il confine tra l'immaginazione e la credenza, le statue rappresentano naturali, che non sono ovviamente gli originali. Queste statuette, grazie alla luce del fuoco, vengono proiettate della caverna, visibili ai prigionieri. Queste ombre, abbiamo detto, rappresentano, appunto, l'immaginazione. Di questi prigionieri venga liberato, suo malgrado. La liberazione di questo schiavo rappresenta il filosofo che si distacca dal mondo terreno e inizia la sua scesi verso la conoscenza. Il prigioniero oltrapassa il muro e vede le statue e ovviamente prova un sentimento di imbarazzo, un disturbo agli occhi, pensa di non vedere bene, però, allo stesso tempo, dopo un momento di dubbio, capisce che le ombre che vedeva prima sono la realtà ultima. Poi, si avvia verso l'uscita della caverna. L'apertura della grotta rappresenta lo spartiacqua tra doxa e episteme, quindi tra ignoranza e conoscenza. la salita ripida verso l'uscita della caverna è dura e faticosa. Questo vuole simboleggiare la durezza, il sacrificio che il filosofo deve fare per poter conoscere, ovvero distaccarsi dal materialismo, dalle conoscenze effimere prive di fondamenta. Questo causa molto dolore, esattamente come il lavoro maieutico di Socrate, il partorire una nuova verità costa fatica, perché vuol dire disconoscere il sapere precedente, tutto il sapere precedente. ovviamente il filosofo, cioè questo prigioniero che cerca di liberarsi dall'ignoranza, viene anche accecato dalla luce esterna, abituato al buio quindi all'ignoranza, non riesce a guardare pienamente la luce del sole man mano che si avvia verso la grotta e quindi ha un momento di cecità, che è un momento di stordimento, un momento di incredulità per il nuovo sapere che si appresta a conoscere. Fuori dalla caverna abbiamo detto che rappresenta la scienza e per abituarsi a questo grado elevato ci vuole abitudine, ovvero gli occhi si devono abituare alla luce, gli occhi che sono stati al buio per tanto tempo si devono abituare alla luce, anche questa è una metafora per dire che le persone che sono state per tanto tempo nell'ignoranza devono adattarsi al nuovo sapere pertanto dovranno guardare verso il basso per non essere accecati e dovranno guardare gli oggetti solo riflessi nell'acqua questo simboleggia le conoscenze matematiche quelle più basse quindi la ritmetica e la geometria solo verso la notte potrà alzare alzare lo sguardo quindi verso diciamo il tramonto e incominciare a contemplare le stelle gli astri la luna ovviamente lo sguardo verso l'alto rappresenta le matematiche superiori l'astronomia e l'armonia l'astronomia la scienza del movimento degli astri e l'armonia la scienza dei suoni della composizione dei suoni quindi la musica il giorno dopo quindi il confine tra la dianoetica e la noetica sta nell'alba col nuovo giorno finalmente questo prigioniero filosofo potrà contemplare pienamente la luce del sole e guardare il sole e questo rappresenta quindi la contemplazione dei valori quindi della filosofia quindi passiamo all'intellizione filosofica e la conoscenza del bene il sole ha un valore fisico è un valore etico il sole governa tutto l'universo senza il sole nulla potrebbe esistere ma allo stesso tempo il sole ha un valore etico perché è la massima espressione del bene quindi quasi di un dio ripreso sicuramente dalla tradizione egizia visto che Platone ha avuto la fortuna di compiere un viaggio in Egitto passiamo al terzo momento del mito il filosofo che decide suomo al grado di ritornare dentro la caverna in un primo momento è tentato di condurre tutta la sua esistenza all'esterno quindi di vivere unicamente per la conoscenza di vivere per la filosofia poi capisce il ruolo e la missione affidateli dalla società lui è l'unico che riesce in vita a contemplare le idee quindi a distaccarsi dal materiale dai vizi del piacere per dedicarsi alla conoscenza del vero e quindi è l'unico che può guidare l'umanità verso una società più giusta più equa quindi decide un po' perché commisera i suoi ex compagni di prigionia di ritornare dentro la grotta i suoi ex compagni di prigionia non sono altro che i suoi concittadini i concittadini che vivono in uno stato ingiusto in uno stato degenerato e quindi devono essere aiutati quindi il ritorno quindi il viaggio inverso è altrettanto difficile e faticoso come l'ascesi verso la conoscenza quindi si passerà a una nuova cecità dovuta dal passaggio alla luce intensa verso il buio verso le tenebre si tratta di un percorso doloroso perché chi conosce pienamente prova sofferenza a dover accettare le falsità che ci sono nella società e questo racchiude anche il compito appunto del filosofo che deve lottare contro le menzogne presenti nella società in cui vive il ritorno quindi è faticoso altrettanto faticoso ma soprattutto il dialogo con i suoi compagni con i suoi ex compagni di prigionia perché il prigioniero non verrà creduto i suoi compagni diranno che ha gli occhi guasti da troppa luce e di fronte al suo tentativo di persuaderli ad uscire e a non credere alle ombre verrà sbeffeggiato verrà deriso ombre a non credere a non credere